Raid di furti e case a soquadro hanno agito all'imbrunire o di notte i ladri che in questi giorni hanno fatto visita alle abitazioni di diversi quartieri come a Fenile e a Santa Maria dell'Arzilla. I malviventi a bordo di un furgoncino Fiat Doblò rubato hanno prima fatto tappa in una villetta schiera in via Aldobini a Fenile di Fano. Qui intorno alle ore 17 hanno agito mentre il proprietario era fuori casa. Sono entrati dalla finestra del bagno al piano terra che hanno forzato probabilmente con un grosso cacciavite e hanno puntato subito alle camere da letto. Hanno messo tutto sotto sopra ma non avendo trovato nulla di valore se ne sono andati a mani vuote. Non contenti poi si sono diretti verso Santa Maria dell'Arzilla dove hanno agito dopo aver perlustrato la zona a piedi in cerca di appartamenti da colpire. Fatta la scelta si sono recati in una casa in via di visione Messina. Obiettivo la cassaforte che hanno forzato e aperto portando via tutto il bottino ancora da quantificare. Ma non è finita qui perché in seguito hanno fatto visita anche ad un'altra abitazione sempre della zona ma loro malgrado si sono ritrovati faccia a faccia con il proprietario che si è accorto di rumori sospetti. A quel punto l'uomo ha dato subito l'allarme mettendoli in fuga. Le sue grida hanno attirato l'attenzione del vicino che senza pensarci due volte ha messo di traverso la sua auto bloccando la strada e i ladri mentre cercavano di scappare a bordo del furgoncino. Ma niente da fare, i malviventi sono riusciti a fuggire in retromarcia e hanno fatto perdere le proprie tracce. Ora la polizia di Stato sta indagando sul caso per cercare di individuare gli autori dei furti e per capire se la banda possa essere responsabile anche dei raid messi a segno in altre zone di Pesaro. Ogni segnalazione da parte dei cittadini potrà agevolare il lavoro degli agenti del commissariato.